Salve a tutti, mi chiamo Gianfranco Marini e in questo video tutorial vi illustrerò questa applicazione web che si chiama VideoHunt che serve per annotare dei video Prima di tutto partiamo dal risultato finale qui abbiamo sulla sinistra il nostro video già annotato e sulla destra le annotazioni che possiamo scorrere Facciamo partire il video da qui o da qui e vediamo che il video è partito, tolgo l'audio man mano che il video procede vengono selezionate le annotazioni che abbiamo sincronizzato con il nostro video grazie a VideoHunt questa barra di scorrimento mi permette di avanzare vediamo che adesso viene evidenziata un'altra annotazione quella che si trova al minuto 050 Bene, con VideoHunt quindi possiamo creare una lezione una video lezione è ideale questa applicazione quindi per il blended learning, per la flipped classroom d'altra parte applicazioni di questo tipo stanno proliferando in rete quindi ci sono tante applicazioni per rendere interattivi i video per creare dai video che troviamo in rete una video lezione in rete sul web abbiamo tanti social network come YouTube come Vimeo che ci forniscono video in abbondanza che possiamo usare nella nostra attività didattica oltre a VideoHunt esistono tante altre applicazioni video che ci permettono di realizzare delle video lezioni tra questi ricordo Zaption Zaption Educanon VialoQuest e tanti altri a differenza di questi VideoHunt è molto più basilare molto più essenziale ma questo ci dà il vantaggio di un utilizzo estremamente semplice e quindi per chi non avesse familiarità con queste applicazioni può essere utile proprio cominciare con VideoHunt per poi passare ad applicazioni che magari offrono funzionalità più evolute da un qualsiasi motore di ricerca digitiamo VideoHunt clicchiamo e ci colleghiamo a VideoHunt bene, VideoHunt è un'applicazione sviluppata dall'università del Minnesota è totalmente free per lanciarla clicchiamo su questo pulsante nero il vantaggio di VideoHunt è che riduce tutto all'essenziale in modo che possa essere utilizzato da chiunque anche da chi appunto non ha una grande familiarità con questo tipo di applicazioni come vediamo possiamo collegarci direttamente con uno dei nostri account senza doversi registrare con un nuovo account io utilizzerò Google Plus mi collego con il mio account principale accettiamo ed ecco qua, questi sono alcuni video che ho già realizzato mi trovo che in quella che si chiama normalmente la dashboard qui viene chiamata My Hunt Farm da qui posso gestire i video che ho già realizzato in questo caso che ho già annotato in questo caso sono due ho varie modalità di visualizzazione preferisco questa per il momento posso gestirli, dicevo ho da questo menu posso annotare un video che ho già cominciato ad annotare posso condividerlo qui mi compariranno i vari link posso visualizzarlo posso incorporarlo posso copiare questo codice nel mio blog, nel mio forum nel mio sito e verrà incorporato il video annotato posso esportarlo e quindi scaricarlo in vari formati e posso cancellarlo come si vede la grafica è molto spartana ridotta, come dicevo, all'essenziale questo peraltro è un elemento di semplificazione che evita delle confusioni creiamo adesso un nuovo video annotato per farlo clicchiamo il pulsante New Ant in alto a destra Ant è il nome che hanno i video annotati su VideoAnt ci comparirà questa pagina dovremo inserire in questo riquadro l'indirizzo di un video che abbiamo trovato sul web io ho già preparato sto spiegando la critica della ragion pura ho già cercato e ho trovato questo video che mi interessa è consigliabile utilizzare video di durata abbastanza breve prendiamo il video sulla critica della ragion pura di Filosofo Joe copio il link, sempre meglio farlo da Condividi questo pulsante che troviamo sotto il video si tratta di un video di Youtube copio torno su VideoAnt e semplicemente col tasto destro premo e clicco su Incolla ecco, ho incollato la URL l'indirizzo del video adesso clicco su Load Video Load Video ed eccolo qua mi compare il video e mi compare anche il titolo del video posso anche cambiarlo per esempio scrivo lezione sulla critica della ragion pura a questo punto siamo pronti per cominciare ad annotare il nostro video cliccando ovviamente sul pulsante nero Start comincio ad annotare Start Annotating eccoci qua abbiamo una barra di scorrimento del video orizzontale a sinistra il video e a destra non abbiamo ancora niente se non una scheda con 5 etichette in basso ci troviamo su Annotation la scheda giusta cioè annotazioni facciamo partire adesso il nostro video tolgo l'audio ecco, adesso quando voglio inserire un'annotazione basta che clicchi sul pulsante e aggiungi un'annotazione quindi io in questo punto voglio dire qualcosa ai miei studenti clicco su Annotation e compare nella scheda annotazioni sulla destra nuova annotazione a sedicesimo secondo quindi io non mi devo preoccupare di indicare qual è il secondo mi basta cliccare darò un soggetto premessa per esempio e scriverò qualcosa la critica della ragion pura è l'opera principale di Kant quello che volete adesso io non scrivo niente di particolare concluso in questo riquadro contenuto di scrivere il contenuto della mia nota cliccherò su Save automaticamente ecco qua la mia nota posso aggiungere altre note ovviamente non mi devo preoccupare assolutamente di indicare quando inizia la nota in quale secondo in quale secondo finisce ci pensa automaticamente VideoAnt qui per esempio voglio inserire un'altra nota stesso procedimento digito il titolo digito il contenuto e salvo interessante la funzionalità adesso lo blocco un attimo posso bloccare anche da qui la funzionalità dei commenti gli studenti per esempio con cui io condividerò questo video annotato possono aggiungere dei commenti richieste domande richieste di chiarimenti eccetera io posso loro rispondere e quindi va bene anche per il tutoring va bene anche per l'assistenza online va bene anche per una discussione su Kant e sulla lezione che ho annotato immaginiamo di aver concluso il nostro lavoro di annotazione e non dovremo salvare ci pensa automaticamente VideoAnt a questo punto dobbiamo condividere il nostro video con coloro a cui vogliamo riservarlo ecco in questo caso clicco su share e mi compare quest'altra scheda qui ho un link lo copio il primo link che io posso condividere in vari modi lo posso mettere nel mio blog nel mio forum mandarlo via email ai miei studenti condividerlo su un gruppo facebook condividerlo su whatsapp consente a chi lo possiede di annotare il video quindi VideoAnt può permettere anche il lavoro collaborativo tra gli studenti io posso dare agli studenti come compito quello di annotare in gruppo un certo video su un certo argomento il secondo link invece consente a chi lo possiede soltanto di visualizzare il video che io ho annotato qui ovviamente posso invece in chi ha l'accesso o as access cambiare in questo caso è di default pubblico cioè chiunque abbia il link per annotare o per visualizzare può annotare o visualizzare posso renderlo privato se lo rendo privato solo chi inviterò io con la mail per esempio con un indirizzo email potrà o visualizzare o annotare qui abbiamo già visto embed per incorporare il codice di incorporamento esportare e cancellare queste sono le funzionalità di base che rendono video uno strumento estremamente versatile ottimale perché semplicissimo da usare basta avere in mente quelle che sono le note che vogliamo scrivere il lavoro poi è molto rapido e il risultato è piuttosto efficace tenendo quindi anche presente che i video e l'editing dei video è diventato ormai uno strumento indispensabile per il web learning l'e-learning il blended learning o come lo vogliamo chiamare uno strumento come il video hunt è molto utile per cominciare con questo tipo di attività grazie spero di essere stato chiaro buon lavoro a tutti